il 30 ottobre ha l'obiettivo di valorizzare le schede che sono già presenti sul catalogo delle esperienze OT11 e OT2 o sono in via di realizzazione e di caricamento, questo dà la possibilità anche ad altre amministrazioni però che volessero in qualche modo valorizzare le proprie esperienze di poter candidarsi alla pubblicazione di schede descrittive dei propri progetti ed eventualmente essere disponibili per altre attività di comunicazione. Le esperienze che saranno presentate sono dei comuni di Firenze, Palermo e Reggio Calabria che presenteranno quelle che sono le attività che stanno svolgendo rispetto ai servizi digitali sul turismo che stanno per erogare ai city users, ai sistemi di profilazione dei servizi verso i turisti e cittadini e alla rete dei servizi che erogano appunto a cittadini e turisti insieme ai comuni della propria area metropolitana. Il turismo digitale fa uso dei device tra cui per esempio gli smartphone e per cui sulle app chiaramente anche le pubbliche amministrazioni stanno sviluppando dei propri servizi.